Siamo a Pattaya Natua, in un istituto per ragazzi ciechi e sordomuti. Oggi abbiamo pensato per augurare a tutti questi bambini disadattati buon Natale e buon anno di venire a portare loro del gelato. Siamo qua, io, Latà, Franco che sta facendo la ripresa e adesso gli distribuiremo questo gelato, sperando che ne siano felici e li piacciono. Siamo qua, io, Latà, Franco. Siamo qua, io, Latà, Franco. Grazie. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie.